Che è stato? Oh mio Dio, ma che cavolo? Ma cosa? Perché c'è un troll di montagna nascosto dietro la magione? Ciao a tutti ragazzi, sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video della ModCraft. Quest'oggi proverò a fare un episodio un po' speciale, cercherò di giocare per un'intera ora e cercherò di caricarvi tutto quanto il video. Quindi questo video durerà molto molto di più del solito, non so se durerà effettivamente un'ora o se ne durerà 40 minuti, 50, 45, non ne ho idea. Quel che so è che voi dovete lasciare assolutamente mi piace a questo video perché io so che questa serie vi piace tantissimo e oggi cercherò appunto di farvi vedere cosa combino io in un'ora di gioco. In realtà combino un bel po' di robe, però la maggior parte del tempo lo passo qua a FK a guardare i generatori perché è l'unico modo che hanno loro per creare degli altri neutroni. Altrimenti se vado via già a questa distanza qua non lavorano più, quindi devo tenere il PC acceso qua praticamente una giornata per avere tante pile di neutroni. Comunque come verrete ragazzi abbiamo già tantissime singolarità e tra l'altro ho notato che ne esistono anche di altri diversi tipo il Flaxt, il Platinum che l'avevo visto l'altra volta, l'Iridium. Non so a cosa servono questi, probabilmente per altri crafting strambi, non lo so. Però oggi ho intenzione prima di tutto di farmare un pochettino di Wither perché è un passatempo che ormai mi sta anche piacendo un bel po' devo dire. Dov'è la Soul Sand? Eccola qua. Ok, non so per quale motivo, è giorno, devo andare a dormire, dicevo non so per quale motivo ultimamente mi diverte, mi rilassa anche uccidere i Wither. Cosa faccio? Metto la musica, mi metto là con la rabbia del vampiro e bam 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 li ammazzo. Solitamente lo faccio in caverna, quindi scendo giù in caverna così è più facile, non scappano troppo. In questo modo otterremo tantissime stelle del Nether per farmare tantissimi lingotti di Matrix che ci daranno energia per il nostro Transmutation Table e in questo modo potremo ottenere tantissimi altri blocchi per avere delle altre singolarità. Perché a quanto pare ce ne servono più di 170, vi rendete conto di quanto siano 170 di quei cosi là? E sono tante, fidatevi, sono molte, molte, molte. Comunque cerchiamo di distruggere tutti questi Wither, tanto non ci metto molto in realtà ragazzi. L'unica roba che mi dà un po' fastidio è che mi dà l'effetto Wither e quindi prendo danno per tutto questo tempo. Ma in due secondi riesco a farmarne veramente tantissimi. Quindi abbiamo 31 teste, va bene, non sono troppe però ci accontentiamo. Vieni qua, dove pensi di scappare? Non puoi distruggere pure questo. Basta, basta, mi hai stancato, addio. Ok, un'altra stella per noi, piazziamo ancora questo. Sì, questa è la mia vita ragazzi quando non registro. Sto qua a farmare Wither su Wither su Wither per aumentare l'energia della Transmutation Table per poi portare i video. Cioè, ormai questa serie, da quando ho aggiunto la verità, mi richiede molto più tempo del normale. Credetemi, io non ho mai passato così tanto tempo a farmare qualcosa per nessuna delle mie serie. Neanche nella Candy Craft. Sapete cosa? Forse ho passato tanto tempo nella Candy Craft quando volevo farmare... Ah, tra l'altro c'è dato anche delle pozioni. Quando volevo farmare i blocchi per fare il castello. Lì ci ho messo tantissimo tempo. Perché ovviamente qua comunque io c'ho le ali, c'ho i draghi, c'ho tutte queste comodità. Nella Candy Craft non ho le comodità. E quindi ho dovuto prendere i blocchi a mano, camminando, facendo avanti e indietro dal Nether. Ecco, lì ci ho messo molto a farmarlo. Ma non così tanto quanto questo. Perché qua sono qui letteralmente da due, tre settimane. E ancora non siamo neanche a metà dell'opera. Pensa che bello. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per tutti i consigli e tutti i commenti che lasciate sempre sotto questa serie della ModCraft. È veramente preziosissimo. Ogni vostro aiuto mi ha aiutato ad arrivare fin qui. Il fatto è che io a volte carico i video, tipo carico un video, poi ne registro altri due. E quindi i vostri commenti ovviamente non li posso leggere perché ancora quel video non è uscito. Quindi per esempio, nel momento in cui sto registrando questo video qua, devono uscire altri due video della ModCraft. Quindi io sono praticamente due video indietro rispetto a voi. Quindi magari voi nel video che è uscito oggi mi state scrivendo un casino di consigli e io li leggerò tra due o tre video. È per questo che a volte sono in ritardo ad accettare i vostri consigli. Infatti, se non sbaglio, mi avete detto tipo di aggiungere la Project E qualcosa come quattro episodi prima che io la aggiungessi. Tutti me lo stavate scrivendo nei commenti e poi mi avete detto Ah, finalmente l'hai aggiunta! È da un mese che ti diciamo di aggiungerla! Eh, ho capito ragazzi, ma io avevo già registrato quei video, non potevo tornare indietro nel tempo. Ok, muori pure tu, dammi la tua fantasi castellina, grazie mille. Speriamo che non si bruci. No, non si dovrebbe bruciare. Facciamo così. Giusto per sicurezza. Come vedete ragazzi, i Wither ormai non sono un problema. Li uccido veramente con pochissimo tempo. Tra l'altro avrei bisogno anche di un po' di spectrite per riparare la corazza. Perché Mending non funziona proprio benissimo su questa corazza. Forse perché non riesco più a trovare abbastanza livelli? Forse perché ne ho troppi e quindi i livelli che trovo? Non lo so. Non sono abbastanza per riparare la corazza? È possibile? È una teoria stupida. Perché siccome adesso ho 117 livelli, che è un'infinità, magari sono talmente tanti che non vanno più alla corazza e quindi non si ripara. Dovrei provare a perderli. Come posso perdere tanti livelli tutto in una volta? Beh, in realtà un metodo ci sarebbe, incantare tantissimi oggetti. Però non ho nulla da incantare così tanto. Mori, 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 ho detto mori. Mori, 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 mori. Mettiamo la rabbia, mettiamo la rigenerazione, mangiamoci un bel cuore umano. Tra l'altro stavo pensando, chissà quando ritornerò umano. Perché io potrei ritornare umano da un momento all'altro. Posso veramente... Cioè, sta a me la scelta. Devo semplicemente scegliere se tornare umano o se rimanere vampiro. Però sono abbastanza sicuro che se dovessi tornare umano, molti di voi si arrabbierebbero e mi direbbero Perché sei tornato umano? Perché non va? Perché c'è l'acqua? Ma va? Scusate, l'acqua? No, non la sapevo questa. L'acqua blocca il Wither? Non lo posso più evocare perché c'è l'acqua? Molto strano, non avevo idea, sinceramente. Ok. Boh, forse ha senso in realtà. Perché in questo modo, se mettessi l'acqua, lui poi non può esplodere. Non farebbe più tanto casino. Forse, non lo so. Vabbè, non importa. L'importante è che lo ammazziamo. Vieni qua, dove pensi di scappare? Muori, 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 ho detto. Muori, muori. E muori, e muori, e muori. Tra l'altro, ragazzi, volevo chiedervi un consiglio. Perché, allora, la ModCraft ormai sta arrivando quasi a 100 episodi. Oddio, non proprio quasi, siamo tipo a 60 e qualcosa. Comunque, abbiamo fatto già tantissimi episodi, considerato che ne porto ogni circa 4-5 settimana. E io volevo sapere se vi piacerebbe, magari, un aggiornamento della ModCraft. Quindi, riniziare da capo, magari, non lo so, al centesimo episodio, in una nuova versione, con le mod aggiornate. Perché, per esempio, nella 1.16, la mod dei draghi è aggiornata e ci sono tanti nuovi draghi diversi. Invece qua, che io sono nella 1.12, non è aggiornata. Quindi ci sono soltanto i draghi di ghiaccio, i draghi di fuoco e basta. Non c'è, per esempio, il drago dei fulmini. Non ci sono molti draghi. Quindi, non lo so, vi piacerebbe se la aggiornassi? Filacteri. Non l'ho mai ottenuto, è molto strano. Rigenerazione, rabbia del vampiro. 3, 2, 1, 6. Morto ufficialmente. Addio. In tanti mi scrivete sempre che volete vedere un episodio più lungo, dove vi faccio vedere tutto, con meno tagli. Dove vi faccio vedere come farmo, che cosa faccio durante le mie ore di registrazione. E quindi, eccoci qua. Allora, vediamo. Abbiamo ottenuto 12 stelle del Nether. Non male, ci possiamo fare un bel po' con 12 stelle del Nether. Buttiamo tutto ciò che non mi serve. La Supreme Essence ci serve, quindi la teniamo. Tra l'altro, mi avete anche detto, Flamable Dust pure ci serve. Questo via, tanto ne posso trovare degli altri. Le teste me le tengo. E questo qua non so che cosa sia. Che cos'è? Che ci faccio? Dungeon Tactics. Probabilmente ci posso creare tipo queste robe qua, però al momento non mi serve. Ok, risaliamo in superficie. Oh, cavolo, è giorno. No, 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 no. Torna a casa. Torna a casa, Candy. Torna a casa. Tino mosso. Tino mosso. Ok, dai. Molto, molto meglio. Bene, allora, visto che prendiamo subito dei diamanti al volo e creiamo il lattice dei diamanti. Quanti ne prendo? Ma sì, uno stacca da 64, tanto prima o poi mi servirà. Questo lo si mette qua. Questo qua lo facciamo diventare diamantino normale. In questo modo. Bene. Quindi creiamo un po' di lattice di diamanti in modo da creare degli altri lingotti di Matrix da poter inserire all'interno del nostro Transmutation Table. Facciamo così. Quanti più ne abbiamo, meglio è. Poi così. Ce ne servono un altro. Ce ne servono un altro po'. Uno, due. Boom. Sei cristalli. Molto bene. Da mettere qua. Adesso siamo a 85 milioni di energia. Allora, a cosa mi serve a me adesso questa energia? Il supremium lo mettiamo qua. Questo qua. Questo pure. I diamanti. Ma sì, i diamanti investiamoli direttamente qua. Già che ci siamo. Questo qua si brucia. Allora, cosa mi serve adesso? Mi servono blocchi di smeraldo e silver, se non sbaglio. Quindi silver e smeraldo. Prendiamo subito emerald e ci riempiamo le tasche. Cosa? Che è successo? Ma ne avevo così pochi. Pensavo di averne messo molto di più. Ne avevo 85 mila o 85 milioni? Boh, va bene. Non importa. Comunque, ci servono 4200 di questi per fare un'altra Singularity. Ho usato tantissima energia per fare tutti questi, ragazzi. È per questo che ovviamente non ne ho degli altri. Devo farmare degli altri scheletri e poi devo farmare degli altri wither. Ma non sto qui ad annoiarvi perché ho già fatto 10 minuti in cui uccido i wither e altrimenti mi annoiereste veramente tantissimo. Allora, così. Ah, ma c'ho anche 64 di questi. E invece di questi... Cavolo, di questi me ne mancano altri 4800. Aspetta, posso prendere il silver quanto costava? Beh, non costa molto in realtà. Però io non ho... Non ho energia. Ne ho 2600. Ho degli altri Matrix. Sì, ho Matrix. Cos'altro ciò che potrei dare? No, tutta questa roba non la posso assolutamente mettere. Le stelle del nether volendo... Ma sì, dai, ce le abbiamo. Utilizziamole. Dove sono finiti i miei blocchi di diamanti? Ok. Diamond. Prendiamo degli altri blocchetti. E facciamo un altro pochettino di lattice. Ok. E di silver, se non altro, ne possiamo prendere un bel po' Perché costa molto di meno rispetto allo smeraldo. E dobbiamo ottenere anche questo, ovviamente. Perché se vogliamo fare un'altra stellina dell'infinito Abbiamo bisogno sia del silver che dello smeraldo. Tutto il resto ce l'abbiamo già Perché nello scorso episodio vi ho fatto vedere Che ho trovato tantissimi materiali extra. Quindi quei materiali che ci servono per fare l'infinity catalyst Che sarebbe questa qua. Questi qui ce li ho tutti extra. Quelli che ci vuole veramente tantissimo a trovarli Sono semplicemente le stelline Che in realtà non è che ci vuole tanto a trovarli. Ci vuole tanto tempo a farmare tanta energia Per poi ottenere questi blocchi da inserire qua dentro. Perché se io ce li avessi infiniti Allora non sarebbe più un problema Li riuscirei a trovare molto facilmente. Però diciamo che ci metto all'incirca 10 minuti Per fare 10 stelle del nether Quindi capite che in un'ora ne faccio 60 Con 60 stelle del nether Ci faccio all'incirca abbastanza energia Per avere due di queste. Ok siamo già a 1300 di energia Quindi riusciremo ad arrivare Più o meno a 1500 forse Con tutti questi blocchettini qua Non sono molti. E pensate ragazzi Se l'avessi fatto tutto in vanilla Con il piccone A camminare A scavare A cercare le miniere Ci avrei messo probabilmente due anni Tra l'altro molti di voi Mi consigliano tuttora Di scaricare la moda delle dimensioni Con quei portali Che hanno Cioè per esempio Mi avete detto Se tu crei un portale di matrix Poi entri in una dimensione Di cristalli di matrix E puoi prendere blocchi Su blocchi Su blocchi Di matrix Sì È un'idea geniale Sarebbe il modo migliore Per ottenere tutto ciò che mi serve Il problema è che mi dà l'impressione Di essere un pochettino Troppo Baroso Ecco In questo modo Ho l'impressione di sudarmi Un po' di più I miei oggetti Tra l'altro qua abbiamo Le nostre piantine di diamante Ma avete detto di romperle Con la pala Perché la pala c'ha fortuna Ma la mia pala non ha fortuna Perché mi avete detto Di romperle con la pala Che ha fortuna Se non ce l'ha fortuna Cos'è che ha fortuna È il piccone che ha fortuna Ok utilizziamo il piccone Perché con fortuna A quanto pare ne escono di più Ma in realtà Io questa farm ragazzi Quasi quasi la voglio anche togliere Perché Non Non mi frutta molto Cioè È comodo avere dei diamanti extra Così Però Non danno veramente Quasi nulla Cioè io con 27 essenze Ci faccio malapena Un blocco di diamante Cosa ci faccio con un blocco di diamante? Lo stesso tempo Che spreco Nel piantare questi semini Avrei già ucciso un wither E mi sarei fatto Uno stack da 64 Per dirvi Cioè Visto con questo qua Ci fa Ma neanche un blocco Ci ho fatto 4 diamanti No Non ne vale la pena Questa farm Per quanto sia comoda Con tutte le mod che ho Non è niente di che Neanche utilizzando fortuna Dovrei avere probabilmente Una piantagione Che arriva da qua Fino alla sotto Per far sì Che diventi utile Tu che cosa sei? Headless hunter Un cacciatore senza testa Muori Allora vorrei anche cercare Di capire come cavolo Faccio a salire Con l'hunter Questi sono tutti i mostri Che ho ucciso Fino ad ora Guarda qua Quanti sono Qua c'è l'elusivo Che è il boss Visto? Boss Vediamo Aspetta Forse ho ucciso Qualche altro boss Che magari non conoscevo Tu cosa sei per esempio? Mele attacker Non sei un boss Grill face Headless hunter Hellcat Ippocampus Ippopotamo Cioè non Ippopotamo Beh Ippocoso Ice dragon Drago di ghiaccio Animale Che figata Tutti i mostri Che ho ucciso Ogni singola creatura Che schifo Questa lo odio Sono tutti quanti Classificati in questo libro A proposito Devo trovare un dungeon Di spectrite Perché voglio Voglio riparare questa corazza Quindi abbiamo bisogno Di spectrite Tanto i livelli ce li abbiamo 117 livelli ragazzi Non penso mi servano Più di 117 livelli Altrimenti sarebbe tragica La cosa Quindi vediamo se riesco A trovare un dungeon Di spectreeter Prendere un pochettino Di gemme E con le gemme Riparare la mia Attuale corazza Ciao ciclope Da quanto tempo Non ci vediamo io e te Prova a mangiarmi Vediamo se mi fai del male O Non mi hai fatto nulla E pensare che un tempo Lui mi uccideva Con un colpo Quando provavo a mangiarmi Ragazzi Vi ricordate? Era tipo il terzo O il quarto episodio Una roba del genere Mi ha mangiato Più e più volte E ogni volta mi uccideva Adesso mi ha tolto Tre cuori Cioè È ridicolo È assurdo Non mi ha tolto nulla Oh una bella montagna nera Da quanto tempo Che non vedo una montagna nera Chissà se c'è qualcosa Interessante qua dentro Non mi ricordo L'ultima volta Che ho esplorato Una montagna nera Era prima che diventassi Un vampiro Qua cosa c'era? Nulla vero? Sì Questi templi Per quanto Siano tipo Interessanti E bellini da vedere Sono piuttosto inutili O almeno io non ho mai capito Il significato Allora Tu fai parte Della mod di Cthulhu Ne sono sicuro E sono sicuro Anche che esistono Dei mostri E dei boss Fantastici In quella mod Ma io non so ancora Come spawnarli Perché mi sa che è molto difficile Vedete questi altari? Ecco Devono avere a che fare Con questi altari Zombie abissali Tutto in oro Ma quanto sei bellino Muori Questa montagna E' una figata Ma questa è sabbia? Se è sabbia Adesso facciamo una cosa No mi sa che non è sabbia Non è sabbia Ok la volevo fare crollare tutta quanta Però non è sabbia E tu chi sei? Principe Zin? Ragazzi non l'ho mai visto questo Non ho Ho mai visto il Principe Zin? Ma cosa fai? Scappi Hai paura? Ma guarda qua Vediamo cosa fa A quello scheletro Se lo scheletro lo attacca Vediamo Vediamo Combattimento tra Principe Zin e scheletro Principe Zin ha 100 di vita Lo scheletro L'ho ucciso con due colpi Non ci posso credere Ok vediamo se lo attacco io Hai paura Del tuo maestro Io sono il capo Di tutti i vampiri Oh non mi fai nulla Sai cosa? Se mi tocchi una volta mi arrabbio Ok sei morto Sei morto Oh Tre spadate Ho sopravvissuto Ben tre mie spadate Era un tipo tosto Il Principe Zin Non l'avevo mai visto Avevo visto tutti gli altri Boss vampiri Ma il Principe Zin È la prima volta che lo trovo Chi è che mi attacca? Chi osa attaccarmi? Sto facendo un video di un'ora Per favore Lasciatemi stare Allora Vediamo Cos'è che non vi faccio vedere Da tantissimo tempo E che anche io Magari me ne sono dimenticato I draghi Vabbè li vediamo tutti i giorni Ormai non vi stupiscono più Sicuramente Ah ma io mi sono dimenticato Che in questo modpack Esistono anche le mod Del terremoto E dell'uragano Però ancora Non ne ho mai visto neanche uno Sarebbe una figata pazzesca Vedere un uragano Proprio dal vivo Mentre sto giocando Però non è mai successo Chissà perché Angelo di pietra Angelo di pietra Ecco Una cosa che non vedete Da tanto tempo Gli angeli di pietra Vediamo se mi teletrasporta Da qualche parte interessante Spero soltanto Non mi riporti Nell'atum Perché altrimenti Per uscire È veramente Una rottura di scatole Angeli Dove sono? Voi li vedete? Oh eccoli Ciao Angeletti di pietra Per chi fosse nuovo Nel mio canale E non conoscesse Gli angeli di pietra Ecco Quando ti toccano Ti teletrasportano Da qualche parte E dove mi hanno portato? Ma questo è l'overworld? Dove cavolo sono? Cos'è sto posto? Mi hanno portato In una magione Aspetta 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 Perché? Perché proprio una magione? Solitamente ti portano In altre dimensioni Spesso e volentieri Mi hanno portato Nel nether Nel nuovo deserto Tra l'altro Mi sta laggando Tutto quanto Perché evidentemente Siamo molto molto lontani Eh sì Siamo a meno 9000 Ma qua c'è un nido di drago Ma che cavolo? Ma dove mi hanno portato? Ma qual è una croce? Aspetta 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 Ciao Ma voi non mi fate nulla L'evocatore È la prima volta Che ho ucciso un evocatore In questo mondo Allora Se non sbaglio Il tesoro della magione Si dovrebbe trovare Tipo Sui tetti Non vorrei dire una cretinata Non mi ricordo È da tanto tempo Che non esploro una magione Però proviamo a intrufolarci Già che siamo stati Teletrasportati qua Approfittiamone Via Ciao evocatori Ma loro non mi dovrebbero dare Il totem Della non morte Magica Oh oh Fermo Ma sì Sono loro che lo droppano Qua c'è lo stato di un gatto Morite 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 Addio evocatore Mi dà della polvere magica Ma non me ne faccio nulla Io della polvere magica Io voglio il totem Voglio trovare il totem E sbloccare l'achievement Perché io Sono un matto Voglio sbloccare tutti gli achievement Di minecraft Se è possibile ovviamente Ma se stanze Che cosa sono Ma io non le ho mai viste Ma io non ho mai visto Una magione del genere In realtà Addio Vex Dai Vieni Dove sei? Hai paura? Oh Addio Allora Quassù A parte dei funghi strambi Non c'è nulla Ma io sono abbastanza sicuro Che i loro tesori Li nascondono Sul tetto Però vatti a ricordare dove Sicuramente voi starete pensando Ma Kendall sei un nab Come fai a non saperlo Si trovano in quella In quella parte di magione Eh però io non me lo ricordo Ragazzi Era tipo di là forse Qui sta bruciando tutto Quindi dubito che sia qua Oh mio dio Ma si sta distruggendo tutta Si sta distruggendo tutta la magione Ed è colpa di un drago Non è neanche colpa mia Oh una cesta Ma dove cavolo sono finito? Oh Oh mio dio No 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 Secondo me c'è un altro posto Dove c'è un tesoro Qualcosa La zucca Qua che c'è? Oh ma non ci credo È una torre Dentro la magione Via Chissà per quale motivo L'angelo di pietra Mi ha teletrasportato Proprio qui Forse è qua il tesoro? No So solo che sto iniziando a morire Perché si è fatto giorno Uccidimi Eh si Non mi toglie niente Dietro il loro naso? Che è stato? Oh mio dio Ma che cavolo Ma cosa? Perché c'è un troll di montagna Nascosto dietro la magione? Ma che paura che mi ha fatto Oh mio dio Attaccami Vediamo se mi fa male Divertiamoci Dai fammi qualcosa Ma non fai nulla Ma sei il mio nuovo amichetto Tu Dai vieni qua Vieni qua Piccolo troll di montagna Muori Cavolo Mi aveva fatto veramente Tanta tanta paura Perché non avevo mai sentito Quel suono Pensavo fosse la bestia Però la bestia Non esiste nella 1.12 Infatti mi sembrava strano Ma che sta succedendo? Si è buggato tutto Non mi fa vedere Neanche quanto danno gli faccio Vedete? Non c'è più la damage indicator Ah ora c'è Ora è tornata Che cavolo Ogni volta che vengo Teletrasportato dagli angeli di pietra Succede sempre un casino Ah tra l'altro Io nello scorso episodio Vi ho detto Che non riesco a trovare I biomi di biome soplenti E se non mi credete Facciamo una prova Io sono disposto a viaggiare Anche per un'ora Tutto dritto Per farvi vedere Che i biomi di biome soplenti Ovvero la mod Che aggiunge tanti biomi colorati E diversi Io non li ho Non so per quale motivo È totalmente buggata Questi biomi qua Non sono quelli di biome soplenti Ma sono quelli dei vampiri Visto? L'assassino Anche l'assassino Non l'ho mai trovato Ma quanti nuovi mostri Stiamo trovando Peccato però Che io sono veramente Troppo forte Rispetto a loro E non riescono a farmi Veramente nulla E soprattutto Perché non sto più Prendendo danno C'è il sole fuori Dovrei prendere danno Ah sta laggando Aspetta Attiviamo il land Ok Ora? Niente Non prendo danno Sono diventato Immune al sole Sono un vampiro Immune al sole Ah no Quanto avvit hai? 188 188 mi piace Rabbia del vampiro Rigenerazione E attacchiamolo Sì ma sto laggando tantissimo Non riesco a fare nulla No no Mi ammazza Mi ammazza Per come sto laggando io adesso Mi ammazza sicuro Sto laggando perché siamo andati Veramente Ultra lontani Nel mondo Io non sono mai arrivato Così lontano Ok Non dovrebbe più laggare adesso Ora dovrebbe essere tutto ok Allora vediamo Come vedete No sta ancora laggando Come vedete ragazzi Quando io mi allontano Non funzionano I collettori di neutronio Quindi come vedete Hanno collezionato Soltanto 10 di questi Allora Buttiamo un po' di spazzatura Bruciamola direttamente Tipo questi li bruciamo Questi pure Questi pure Music disk No ci potrebbero servire Ma in realtà Non ci servono più a nulla Carne Bruciamo Brucia Brucia Ok Magic powder Non mi ricordo cosa ci posso fare Credo che mi serva Per costruire tipo Quel secchio gigante Sì Non mi serve più a nulla Perché l'ho già craftato Questi pochi diamanti Li buttiamo Butta 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 Ok Tutta la spazzatura Via Questo qua Lo trasformiamo In dischi rotti Che ci servono per fare I lingotti dell'infinito Molto molto bene E vediamo come procede La nostra farm Allora è arrivato il momento Di raccogliere Quello che ho seminato Quindi tutti Questi piccoli Pile di neutronio Sono tutti quanti miei Grazie mille Grazie grazie Gentilissimo Sì 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 Molto bene E cerchiamo di craftare Quanti più lingotti possibili Perché noi ne abbiamo molti In realtà ragazzi Noi abbiamo bisogno Di all'incirca 300 blocchi Per fare No scusate 300 lingotti Per fare sia la spada Che l'armatura E tutto ciò che ci serve E al momento Ne ho Quanti ne ho Tipo 40 forse Che sono pochi Però se ci pensate Fino a una settimana fa Ragazzi Io ero contento Di averne trovato Uno Ero contento Con un singolo Lingotto Di neutronio Perché sono talmente Difficili Da fare Che già uno Mi aveva Resto super felice Adesso per fortuna Abbiamo incrementato Ancora di più La produzione Di neutroni E quindi Anche se ne ho 30 Non sono soddisfatto E' così E abbiamo finito I nostri Nugget Adesso questi Nugget Li trasformiamo In lingotti E ne abbiamo trovati Altri 4 Non male Ok Cos'altro posso farvi vedere Ragazzi Vi ho fatto vedere Tutto quello che faccio Ultimamente Cioè perché Io ultimamente Non faccio altro Che farmare 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 Per ottenere Tantissima energia Da poter Inserire qua dentro E ottenere Degli altri blocchi Dovrei andare a farmare Delle altre teste Di wither Per poi farmare Degli altri boss Per poi farmare Delle Degli altri lingotti Di matrix Da mettere qua Per prendere l'energia Insomma L'avete capito Tra l'altro Non so a cosa serve A sto robo qua Mubius fuel Vediamo Collector fuel upgrade Ah è semplicemente Del carbone Cos'è che mi serviva Che mi sto dimenticando Ah Mi servono le gemme Sì Devo prendere Delle gemme di spectrite Per migliorare la mia corazza Ok Andiamo alla ricerca Di un dungeon di spectrite E proviamo a finirlo Una volta per tutte Però seriamente Perché non vi ho mai Fatto vedere appunto Un dungeon di spectrite Da inizio a fine Fatto per bene Perché solitamente Mi scoccio E lascio perdere E mi prendo semplicemente La cesta Questa volta no Proveremo a finirlo Dall'inizio alla fine Per bene Tanto c'ho una corazza potentissima C'ho delle abilità potentissime Non dovrei rischiare la vita Uh Ci abbiamo un dungeon Proprio sotto i piedini Aspetta 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 Io però voglio trovare L'entrata Perché come vi dicevo Voglio provare a farlo Da inizio a fine Per chi non lo sapesse In cima al dungeon di spectrite C'è una cesta Che contiene tutto il loot E io grazie al mio piccone Che è super potente Posso prendere direttamente Quella cesta Senza sconfiggere Tutti quanti i mostri Però in realtà È molto bello E divertente Finire il dungeon Per bene Quindi senza Barare Tra virgolette Allora Mettiamo la rabbia del vampiro Rompiamo questi blocchi qua Così almeno entriamo Altrimenti Sto qua un'ora Ok 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 Questo è il primo piano Quindi non male Oh cavolo Oh mio dio Aspetta Così tanti Wow 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 Perché è così pieno? Solitamente non ce ne sono Così tanti Porca miseria Quanti sono? Ok morite Ma se questo non mi ripara Tutta l'armatura Non so che cosa lo farà Cioè guardate quanti livelli Sto ottenendo Bim 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 Tra l'altro mi servono anche le frecce Quindi se gentilmente No 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 Ok Per fortuna Le robe inspectrite Non bruciano nella lava Sono come la nederite Di minecraft vanilla Morite Morite E morite Ehm Beh di robe interessante Me ne hanno date Effettivamente Il problema è che a me non serve a nulla Tutto questo Oh Testa di Wither Skeletor Di spectrite Chissà a cosa serve questa Ah la posso mettere in testa? No ma sicuramente serve a qualcosa Forse ci posso fare tipo un Wither? Il Wither di spectrite? Oddio non ne ho la minima idea Allora Andiamo avanti Ah siamo già alla fine Salve Salve a tutti Come state? Tutto bene? Vi dispiace se faccio una capatina E vi uccido tutti quanti? Non vi dispiace? Eh allora lo faccio volentieri Ormai ragazzi sono praticamente Oltre ad essere immortale Sono super potente Rompiamo lo spawner Così non ne nascono più E liberiamo totalmente questo dungeon Eh però Devo dire che Un po' di male Me lo fanno Quindi mettiamo la rigenerazione Tu sei morto Tu sei morto Tu sei morto Tu pure E tu pure Tu pure Ok Quanti ne restano? Restano i creeper Oh cavolo Credo che tu sia l'ultimo No Ce ne sono altri due Salve Addio Addio Ok Dovrei aver liberato Tutto quanto il dungeon Buttiamo tutto ciò Che non mi serve Chi? No c'è ancora qualcuno E dove sono? Ah siete qua Vi nascondete? Avevate paura eh? Ok Oh Ho livellato su qualcosa Buttiamo quello che non mi serve Tanto la spectreater Purtroppo ragazzi Non la posso utilizzare per energia Via 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 Contro ningot Ci potrebbe servire Inferium ci serve Via Via Questo qua non so cosa serva Quindi magari lo teniamo Ci potrebbe servire in futuro Via via E adesso vediamo effettivamente Cosa si trova all'interno della cesta Neanche una gemma Che è quello di cui io ho bisogno Sono venuto solo per le gemme Non le ho neanche trovate Smite Knockback Looting Fortuna Questo c'ha fortuna E unbreaking Nah Respiration 3 Mending No Unbreaking Mending Super chromatic Efficiency Unbreaking Mending Questo è buono Cavolo Questo è molto buono Forse è anche migliore del mio La differenza è che il mio C'ha fortuna 3 Questo non c'ha fortuna Però c'ha super chromaticity Quale conviene a sto punto? Secondo me conviene questo Io me lo prendo Beh stiamo facendo un bel upgrade ragazzi Silk touch mi potrebbe servire Ok tutto il resto non mi serve a nulla Quindi via Ok speravo di poter rompere la cassa A quanto pare non si può Questi qua mi potrebbero servire per le frecce L'inferium mi serve Quello non mi serve Non mi serve Non mi serve Testa di wither Ok Questa qua è interessante Ripeto Non so cosa farmene Però secondo me Ci posso craftare qualcosa Cioè ci posso tipo evocare il wither Si sono riparate le cose Oh Ok va bene Non mi saranno servite Le gemme di spectrite Però comunque Avendo farmato così tanti livelli Siamo riusciti in ogni caso A riparare tutta l'armatura Questo che materiale è? Ametista Ok E' cambiata? Perché? Non era così l'ametista primo Ed è ufficialmente passata Un'ora di registrazione E ci troviamo di fronte a una montagna sfracellata Beh ragazzi Io non so quanto di questa ora Voi stiate vedendo Perché sicuramente qualche taglio l'ho fatto Però dovrebbe essere comunque un video abbastanza lungo Un video speciale E mi auguro che abbiate già lasciato mi piace Perché per fare questi video Io ci metto veramente tantissimo tempo Allora toglievo l'armatura Così dovrei morire molto facilmente Grazie Mangiami pure Ah sì Sono un buono snack Vero draghetto? Come sono? Gustoso? Ok L'armatura adesso è tutta riparata Queste teste di spectrite Io quasi quasi le metterei qua Perché sono curioso di vedere Se ci posso craftare un wither Bene Io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao